Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Emmeie e oggi vi porto una nuova profile, visto che è venerdì, e parliamo del mazzo cubico. Il mazzo si compone di 40 carte, 20 mostri, 15 magie e 5 trappole e un extra deck di 15 carte. Il mazzo è un mazzo going second che punta a fare OTK al primo turno, ha praticamente zero recovery quindi è difficilissimo che se non riuscite a vincere il primo turno provare a vincere i turni successivi. Detto questo andiamo subito a vedere il mazzo. Allora per cominciare gioco in tre per il nuova cremisi il signore cubico oscuro, anche detto cubic lord. Questa carta ragazzi non ha senso, semplicemente non ha senso. Andiamo a leggere insieme l'effetto. È un livello 10, se non ricordo male sì, è un livello 10 che per essere evocato, deve essere evocato specialmente dalla mano per forza rivelando tre carte cubico con nomi diversi e non può essere evocato specialmente in altri modi. È un 3000 d'attacco, zero di difesa ed è immune agli effetti attivati degli altri mostri con attacco originale di 3000 o inferiore, quindi è immune quasi a tutto, quasi a tutti gli effetti dei mostri, tranne quelli continui e i rari casi in cui un mostro superi i 3000 d'attacco, ma è molto difficile. E ricordiamo che stiamo parlando di attacco originale, quindi se un mostro viene per esempio access code, prende un buff, comunque lui è immune all'effetto di access code, perché conta l'attacco originale del mostro. Inoltre, quando questa carta attaccante distrugge un mostro in battaglia, può attaccare una seconda volta e, come se non bastasse, a fine turno infligge 3000 danni a tutti e due i giocatori. Quindi è una carta che veramente chi l'ha scritta non so che cosa gli passasse per la testa in quel momento. È uno dei boss monster più assurdi mai letti in assoluto ed è tutto e tutto il deck gira intorno a questa carta. Quindi noi adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere insomma il resto del mazzo così vi spiego meglio che cosa intendo. La normal del mazzo è Duzza, purtroppo due copie ce l'ho in inglese. Lui quando viene evocato normal semplicemente cerca, no scusate, manda una carta cubico dal deck al cimitero. Poi anche un altro effetto che può tornare utile a seconda delle circostanze, si pompa d'attacco di 200 per ogni mostro nel cimitero quando viene mandato un mostro al cimitero. Niente di assurdo, diciamo che la cosa più importante è il suo primo effetto. Il terzo mostro che giochiamo in 3x è Vigiam, il seme cubico. Lo giochiamo in 3x, si potrebbe giocare anche in 1x, visto che a noi ci interessa avere i nomi diversi in mano per evocare il lord, però questo mostro in particolare si gioca in 3x perché ha degli effetti interessanti. Infatti non può essere distrutto in battaglia, quindi può essere usato per stallare alcune volte. È un livello 1, il che significa che andrà in combinazione con alcune carte che vedremo dell'extra. E poi se ha combattuto con un mostro dell'avversario, si può equipaggiare al mostro? In realtà no, è una cosa un po' simile all'equipaggiamento. Diventa una magia continua nella zona delle magie trappole, però mette un segnalino cubico al mostro. I segnalini pubici sono dei segnalini che se riuscite a metterli sui mostri dell'avversario impediscono a quei mostri di attaccare e di attivare i loro effetti. Inoltre Vision si può rievocare specialmente dalla zona magia e trappole. È forte non solo per il suo effetto, ma anche perché va in combinazione con molte delle carte magia e trappola che andremo a vedere nella lista. Poi gioco l'uno per di Gundil, l'uno per di Indiola Vault, l'uno per di Garodia e l'uno per di Geira. Il più utile e l'unico da ricordare penso che sia lui. Gli altri si giocano solo ed esclusivamente per i nomi diversi, quindi veramente qua niente da dire. Questo ragazzi è uno dei deck più facili da giocare perché tutto quello che dovete fare è calare il signore, il lord in campo e lui fa il resto, fa tutto lui. Quindi per far sì che il lord non venga distrutto da magia e trappole, giochiamo il 3x di Denko Secca. Potrebbe sembrare una scelta particolare perché comunque la normal ce l'ha questo mazzo, ma in realtà non vi serve, nel senso che la cosa più importante è proteggere il lord dalle magie e le trappole, evocarlo e proteggerlo. Quindi la normal di Denko Secca è sempre più forte della normal di Duzza quando vi trovate soprattutto contro un mazzo che gioca tante magie e trappole, ma nei mazzi di adesso quasi tutti giocano almeno una o due magie e trappole settate, quindi lei vi torna molto molto utile. Considerate che il lord se ne frega altamente dei mostri che gli stanno davanti, li supera tutti d'attacco e li supera tutti anche d'effetto, quindi vi interessa solo proteggerlo dalle magie e dalle trappole e Denko Secca è perfetta per questo scopo. Quindi la giochiamo in 3x. Poi si può anche considerare di magari giocarla in 2x e 1x di side, quello poi potete appunto decidere voi. Gioco poi l'unica end trap del mazzo, il 3x di gamma con ovviamente il driver e vabbè questa non penso che vada spiegata. E poi gioco il... passiamo alle magie, gioco il 3x di karma cubico. Questa è il cerchino del mazzo quando la mandate al cimitero, nel senso che si bandisce dal cimitero e vi fa cercare un mostro cubico. Ha anche un altro effetto se l'attivate che scomba con vijam appunto. Potete mandare da 1 a 3 vijam dal deck al cimitero e il mostro verrà pompato d'attacco di 800 per ogni vijam che avete mandato. Quindi è utile, può tornare utile se volete far diventare il Lord un 10.800 d'attacco invece che un 6.000. Però può tornare utile anche con Duzza in realtà perché se considerate che lui si pompa d'attacco già di suo, poi si pompa d'attacco con questa carta, può arrivare già tranquillamente a 4.000. I raddoppiate l'attacco con la prossima magia che andremo a vedere, onda cubica, e diventa un 8.000 che fa OTK anche da solo. Questa infatti serve proprio a raddoppiare l'attacco di un mostro cubico, però per poterla attivare dovete anche bersagliare un mostro dell'avversario. Infatti dice che dimezza l'attacco di un mostro all'avversario e raddoppia l'attacco di un vostro mostro. L'effetto di raddoppiare l'attacco del vostro mostro parte anche se il mostro dell'avversario è immune agli effetti per esempio e quindi non riuscite a dimezzare il suo attacco. Inoltre ha anche un altro effetto molto utile questa carta. Dal cimitero potete bandirla e bandirla insieme a uno o più mostri cubici e mettere segnalini cubici sui mostri dell'avversario pari al numero di mostri cubici che avete bandito con questo effetto. Poi gioco in 2x il d'arma cubico. Allora è interessante come carta però si gioca principalmente come nome. Io la gioco in 2x perché non ho extravagance altrimenti toglierei sicuramente una copia di questa per mettere extravagance e poi toglierei anche altre carte per mettere il 3x di extravagance che in questo deck è fortissima. Ma poi andremo a vedere dopo con i suggerimenti. Comunque questa carta quando viene attivata non fa niente. Non subite danno da combattimento se un vostro mostro cubico combatte. Inoltre potete scartare una carta cubico e pescare una carta. E poi ha anche un effetto dal cimitero. Quindi potete bandirla e aggiungere un mostro cubico che si trova nel vostro cimitero alla mano. Poi giochiamo, visto che vogliamo cercare il lord il più velocemente possibile, il 3x di sepoltura sciocca con cui ci mandiamo la magia continua che abbiamo visto prima, karma cubico. Oppure anche la trappola che andremo a vedere dopo o comunque anche le altre due magie a seconda della situazione. Poi gioco il 2x di turbini gemelli, fortissimo in questo deck, mi manca la terza copia, devo recuperarla. Poi per sopperire alla mancanza della terza copia di turbini gemelli e alla mancanza di spolverino, per il momento gioco il 2x di ritorno. E fa tornare tutte le magie trappole posizionate sul terreno, quindi è ottima. E poi ragazzi, per quelli a cui possa venire il dubbio, questa non è ritorno totale. Io mi confondevo all'inizio, ha praticamente, ecco ce l'ho qua, ha lo stesso artwork, cioè molto molto simile, ha un nome molto molto simile, ha un effetto molto molto simile, ma non è ritorno totale. Ritorno totale è bandita, questa no. Sì, neanche io capisco bene questa cosa, sicuramente il ritorno totale è più forte, ma insomma, vabbè. Giusto per togliere il dubbio a chiunque ce l'avesse, perché io all'inizio ce l'avevo. Comunque, passiamo alle trappole. Il 3x di unificazione, questa è la carta che non volete mai pescare, perché questa carta ha un effetto quando viene posizionata e attivata, ma voi non potete neanche attivare questo effetto, perché ha a che fare con il mostro fusione che io non gioco, perché lo trovo veramente tremendo. E il suo effetto è importante, è quello di bandirsi dal cimitero quando un mostro cubico lascia il terreno, quindi se viene rimbalzato in mano, se va al cimitero, se viene bandito, basta che lasci il terreno, potete bandire questa carta ed evocare specialmente, direttamente dal deck, un mostro cubico di livello 4 o inferiore, anche dalla mano, ecco stavo rileggendo adesso, ignorando le sue condizioni di evocazione. Quindi potete evocare anche quelli che abbiamo visto prima come nomi semplicemente cubici, ma principalmente volete evocarvi o Duzza o Vigiam, quasi mai gli altri 4. Inoltre, cosa che piccola chicca che non tutti si ricordano, se evocate il mostro in questo modo, non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte fino alla fine del turno, quindi è interessante anche per stallare, se vi serve. Infine gioco l'1x di ascensione cubica, questo è un effetto che vi può tornare utile a volte, ma si gioca sempre principalmente per il nome, infatti in 1x, e quando viene attivata da terreno, se appunto il mostro dell'avversario dichiarà un attacco, potete evocare Vigiam dal deck e far attaccare al mostro dell'avversario Vigiam. Se i life points dell'avversario sono di almeno 2000 superiori ai tuoi, inoltre, dal cimitero si può bandire per evocare un Vigiam, da mano, deck o cimitero, e se solo il avversario controlla un mostro, anche altri due Vigiam, quindi è ottima per prendere vantaggio e per stallare, diciamo. E questo in realtà, ecco, mi sbagliavo, anche questo è una volta per turno, anche questo infatti è uscito da due l'overload. E l'ultima carta che giochiamo è Riavvio Rosso, Red Reboot, perché stesse motivazioni di Denko Seca, Turbini Gemelli, ritorno totale. Questa è molto forte, non c'è niente da dire, si è attiva dalla mano, quindi è sbroccata questa carta, purtroppo è 1. Ce la facciamo bastare. Passiamo all'extra deck, gioco l'1 per di Anima Abbandonata. Si fa con Vigiam, semplicemente, fortissimo come Link 1, veramente veramente forte. Quando l'avversario non ci gioca attorno, potete vincere la partita, grazie a questa. Poi gioco l'1 per di Link Uribbo, credo che sia il Link 1 più forte in assoluto. Fortissimo anche nel matchup contro Dino, io penso sempre al matchup contro Dino perché ogni tanto quando lo becco, oppure quando lo uso e trovo contro gente che mi gioca a Link Uribbo, quando c'ho la terreno, è devastante questa carta, è veramente forte, ma diciamo che in generale è molto utile. Poi principalmente vi serve per fare scaletta Link, se volete appunto togliervi via Vigiam dal campo per evocare della trappola. Diciamo che comunque la vostra win condition principale è il Lord, quindi la maggior parte delle volte, la maggior parte delle partite, le altre giocate non vengono neanche prese, quasi neanche prese in considerazione, cioè al massimo vi succede di evocare Fenice per spaccare una settata, veramente poca roba. La cosa principale che fa questo mazzo è evocare il Lord, attaccare, vincere, basta. Questo è il vostro obiettivo. Gioco poi Pentest Cervo, Pentestag, perché questo è ottimo nel caso in cui l'avversario vi mette un mostro in difesa, anche coperto in difesa, perché se l'avversario vi mette un mostro coperto in difesa voi avete comunque un problema, perché non riuscite a chiudere il turno. Vi serve comunque fare danno, fare danno perforante e quindi Pentestag sta qui per questo. Poi gioco l'uno per di Security Dragon, non ha senso questo mostro in questo extra deck, me ne rendo conto da solo, però non sapevo che altro metterci, perché poi andremo a vedere insomma le altre opzioni di carte che mi mancano. Poi gioco il pacchetto Nightmare, tutti e tre, perché no, perché sì ci sta, quindi questi sono abbastanza no brain. Poi gioco l'uno per di Trisbena, in realtà non è neanche questa, potrebbe sembrare utile ma non è utile per niente, perché questa qui potrebbe tornare utile nel caso in cui la vostra fosse una build andando primi con Mascherina, voi fate Mascherina, nel turno dell'avversario fate lei, si procca la trappola, evocate un mostro, lei bandisce tutte le magie trappole dell'avversario. Potete fare la stessa cosa anche con quest'altro mostro, Zero Boros, però io non gioco Mascherina, perché non gioco Mascherina? Perché non funziona con questa build del deck. L'ho provata, funziona così così, ogni volta che considerate di farla è un po' un bait, più che altro, e quindi la fate, perdete la partita e piangete, sostanzialmente. Quindi questi sono gli ultimi due mostri Link 4, Abominio e Borelod. Non vi capiterà quasi mai di farli, veramente quasi mai di farli, quindi passiamo oltre. Questo può tornare utile, più o meno? Si fa solamente se risolvete gamma nel vostro turno, cosa che può succedere in realtà, quindi si può effettivamente evocare, cava via una carta dalla mano dell'avversario, oppure un body in più sul terreno, ci sta, diciamo semplicemente che ci sta. E poi per finire tre Xyz, Bagusca, Dweller e Drago Tornado. Forte? Forte, abbastanza inutile. Drago Tornado è abbastanza inutile, come anche Fenice, Trisbane, eccetera. Perché, come ho già detto, giochiamo diversi out a Magia e Trappol di Main, e quasi sicuramente troverete uno di quegli out nella prima mano. Quindi raramente vi serve fare lui, e soprattutto raramente riuscirete a farlo, perché questa non è la build quella con Monaco e Evocatore, che vi permette di fare facilmente un rango 4, ma riuscite a fare un rango 4 solo nel caso in cui abbiate un turno in più, quindi è veramente difficile. Detto ciò ragazzi, vi propongo come al solito qualche alternativa. Allora, alcune carte budget buone per il mazzo sono Mostro Cancello, Fascino dell'Oscurità, Ciclone Cosmico, e se non giocate a Mostro Cancello potete aggiungere anche altre Entrap oppure i Kaiju, a seconda di quello che preferite. altre carte invece non budget buone per il mazzo sono ovviamente Extravagance e Prosperity, se ce l'avete, è un'altra alternativa. Io preferisco Extravagance in questo deck perché quello che vi interessa è il vantaggio carte, tanto il Lord sicuramente avete il modo di cercarlo. Poi Magician Souls, Droplet e Lightning Storm, per chiudere un po' il cerchio delle carte quelle un po' più costose. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi nell'extra deck i mostri meno utili, come abbiamo già detto, sono Omega, il Drago di Sicurezza, Drago Tornado e anche Trisbena. Quindi sicuramente potete aggiungere altri mostri. Il Link 1, Teghi, il Limite dei Milleocchi oppure Skystriker Kagari. Se volete giocare però di main rispettivamente, Vishuda, che si gioca per rimbalzare una carta dall'avversario, fusione istantanea o Droni Calabrone per quanto riguarda Kagari. Ogni carta diciamo che è il suo perché, però se scegliete di mettere questi mostri nell'extra dovete anche mettere queste carte necessariamente nel main. Kagari vi permette di fare Scaletta Link, Limite dei Milleocchi di Baitaron e Gate e anche questo di mettere un body in campo che vi permette di fare Scaletta Link. Il Link 1, Teghi invece vi permette sia di mettere un body che di rimbalzare una carta dall'avversario. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video del canale. Ciao a tutti!